Ciao ragazzi, bentornati su WargamesTube, come vedete sono Tia, come sentite invece sono un po' malaticcio se vi chiedevate perché sono mancato in questi giorni, se non avete visto video nuovi di Skylender o di qualcos'altro negli ultimi circa 4-5 giorni è perché sono stato un pochino influenzato, come vedete, non è di scena ma mi servono quotidianamente tutti i giorni, spesso e purtroppo ho fatto un po' di influenza, come inizieranno nuovo ovviamente per partire belli carichi l'1 gennaio sera, avevo già registrato Skylender, infatti mi pare che l'ultimo video risale al 2 l'1 sera, febbre, mal di testa, raffreddore, dopo è diventato tosse, raffreddore, la febbre per fortuna non ce l'avevo più anche se io ho più fastidio dal raffreddore, non so voi, il raffreddore e il tosse mi dà più fastidio che la febbre in sé e quindi ho preso un po' di giorni da lavorare a casa, non ho avuto occasione di fare video perché ho avuto poco tempo anche per stare da solo, perché infatti mi ero messo avanti per le feste, sapendo che dopo parenti in casa, difficoltà a registrare eccetera eccetera, anche voi avete avuto le feste quindi forse è andata bene così, ci sarei posati tutti da domani o al massimo diciamo domani l'altro ci sarà il nuovo video che dovrebbe essere il capitolo 15 e poi rimangono solo 16 e 17 e la difficoltà incubo e a questo punto vi chiedo anche aiuto perché non so dopo se fare qualcos'altro, non so se volessi fare altri video di Skylender, che cosa fare di Skylender perché non saprei cosa fare e quindi niente, vi voglio fare un saluto, le feste sono finite e adesso io tornerò a lavorare e tornerò a lavorare sui video e vi rinnovo il mio buon anno comunque che ce l'eravamo già fatti e io adesso mi metto bello orizzontale nel mio rettuccio perché è sera, mi faccio un pisolino che domani si ricomincia con il tram tram e ci vedremo presto con dei nuovi video, spero che non sia stato un problema questi giorni di buco, adesso cercheremo di recuperare subito belli carchi e di fare qualcosa di nuovo appena qualcosa di nuovo ci sarà, vi avverto di seguire GameStar News, le ho fatto un bel video con i titoli che lui aspetta per il 2014, adesso scrivo un paio di idee di quello che vorrei anch'io per questo nuovo anno e realizzerò un video apposta per quello, poi ci sarà qualche video di Pokémon anche in arrivo se avete amici che lo seguono ditegli di passare da WorldGamesTube, ci sarà qualcosa appunto su GameStar News vi ricordo sempre che è 3 Little Birds dove Leo sta continuando i Voltrute di Mario e io vi saluto perché non ce la faccio proprio più, ci vediamo domani o domani l'altro al massimo per Skylander e ciao a tutti